Ciao amici di Bussolengo, scusate se oggi non vengo ma avevo un altro impegno Ma non mandate mi arremengo Le mie amiche mi hanno fatto notare che ho un piccolo problema, un alone qui che si vede D'estate quando mi abbronzo non si vede tanto ma d'inverno un pochino Per Natale mi hanno regalato su Groupon 10 sedute laser luce pulsata Ho fatto 9 sedute e oggi c'è l'ultima e se non le fai tutte non funziona Infatti penso che con oggi scompaia definitivamente il problema Un grande bacione a tutti quanti voi uno per uno Sotto la luce si vede tanto Niente bisogna proprio intervenire Sotto la luce